ehi la turma sono mazzatess e questo è un brevissimo video per confermare che ci vediamo quindi in multiplayer domani sera mercoledì 30 novembre ore 21 sul server liberty land di cui ho lasciato il link in descrizione di due video fa se mi ricordo lo metto anche sotto questo ma non posso prometterlo e sul server discord che appunto avevo indicato anche quello in precedenza server discord che può essere utilizzato sia come chat vocale per chi di voi volesse al microfono le cuffie balle varie e altrimenti si può utilizzare anche come chat scritta nel senso che scrivete la e non floodiamo diciamo nella chat del server di main test e niente per qualsiasi aggiornamento ci dovessero essere problemi dei ritardi il server che non funziona piuttosto che boh mi è morto il gatto che ne so canale telegram e canale discord cioè nel senso state o almeno su uno dei due oppure su tutti e due così almeno se per caso dovessero esserci aggiorna esserci aggiornamenti potete saperlo in tempo cioè in tempo reale se per caso dovesse dirmi qualcosa credo che il mezzo più conveniente sia e rimanga la email quella del canale che trovate le informazioni del canale potete mandare un messaggio su facebook ma fatico un pochettino di più dovrei ricordarmi di entrare su facebook e vedere se per caso c'è qualche comunicazione particolare di cui tener nota detto questo quindi noi ci vediamo domani sera spero che ci divertiremo faremo una bella serata tutti insieme magari registrò qualcosa non lo so vediamo un po come si sviluppa la serata niente buona giornata a tutti ci vediamo domani sera ciao ciao